Padova Land of Wine Stars, questo il titolo del docufilm che è stato presentato qui a Palazzo della Ragione, una produzione di Venice Promex. Abbiamo qui il direttore appunto di Venice Promex e che ci dice insomma in cosa consiste questo progetto molto importante per i vini padovani che sono d'eccellenza davvero. Sì, sono proprio un'eccellenza e Land of Wine Stars nasce proprio da questa consapevolezza, del fatto che siamo veramente un territorio pieno di eccellenze. Eccellenze in questo caso vitivinicole, ma l'altro aspetto che abbiamo voluto mettere in luce con questo docufilm è l'importanza di tutta l'enogastronomia nel suo complesso per il turismo. Ed ecco quindi un docufilm che continua ad alternarsi tra le eccellenze vitivinicole tipiche dei nostri colli e le eccellenze invece tra le quali UvSpicta che abbiamo nel centro storico della nostra città. Ecco l'accoppiata e vedere l'enogastronomia, quale drive per il turismo, è proprio l'arma essenziale che abbiamo adoperato in questo docufilm. Direttore, ci sono anche volti noti della televisione come Patrizio Roversi a presentare questo documentario. Davvero interessante. Sì, abbiamo Patrizio Roversi peraltro che è un grande conoscitore dei diversi territori italiani e in modo particolare anche del nostro territorio ed è una testimonianza importante a fianco alla quale abbiamo ovviamente il regista del docufilm ma poi anche Anna Maria Pellegrino che è una food blogger che diciamo ti mette in luce anche gli aspetti innovativi del settore del turismo nel suo complesso. Quindi l'insieme di queste persone aiutano a presentare il docufilm e a darci anche una chiave di lettura di quali possono essere le azioni per lo sviluppo del nostro territorio. Il grande flusso di persone qui testimonia della grande attenzione proprio dei padovani verso l'enogastronomia del territorio. E questo ci fa un immenso piacere perché siamo assolutamente convinti che i primi ambasciatori dell'eccellenza del proprio territorio devono essere i cittadini residenti e il fatto che oggi siano qui numerosi padovani ad ascoltare e a vedere questo docufilm veramente ci rincuora perché poi saranno loro stessi i primi ambasciatori delle nostre eccellenze. La ringrazio direttore, adesso la linea può tornare allo studio.